Vi allenate da anni ma non vi è ancora ben chiaro come funzionano le tecniche di intensità? Oppure non le avete mai fatte? In questo video ve le mostro. Se desideri trasformare il tuo corpo, allora sei nel posto giusto. Io sono Gianmarco Bollaro, personal trainer, ed insieme alla mia compagna Irene e al team di nutrizionisti lavoriamo per cambiare la vita e la salute delle persone grazie ai nostri programmi. Su questo canale trovi consigli, guide per migliorare la qualità e l'intensità dei tuoi allenamenti ma anche ricette veloci, buone, nutrienti e facili da preparare che ti aiuteranno a tornare in forma e a stare bene durante la giornata senza dover fare la fame e senza rinunciare alla tua vita sociale. Per cui iscriviti al canale, attiva la campanella per iniziare il tuo percorso di trasformazione. Se desideri invece avere un piano adatto veramente a te che tenga conto del tuo passato, delle tue abitudini e dei tuoi obiettivi allora clicca nel link in descrizione per scoprire tutti i dettagli. Torniamo al video. Oggi mi trovo a Dubai, alla Binus Gym e sono qui per mostrarvi nel dettaglio tutte le tecniche di intensità che maggiormente utilizzo per i miei programmi di allenamento e per le schede di allenamento dei miei clienti del coaching online. Le tecniche di intensità a che cosa servono? Come dice la parola, sono tecniche che aumentano l'intensità dell'esercizio che andate a fare. Quindi ricordatevi che quando voi vi allenate ci sono dei parametri che aumentano l'intensità del vostro esercizio o del vostro allenamento. Un parametro è il carico. Se voi ogni settimana aumentate il carico aumenterà l'intensità in quell'esercizio. Oppure se voi ogni settimana aumentate per esempio le ripetizioni aumenterà l'intensità del vostro esercizio. Oppure un altro parametro sono le serie. Se voi ogni settimana aumentate in un esercizio target le serie quindi magari partite la prima settimana tre serie la seconda settimana quattro serie andando avanti aumentate una serie a settimana aumenterà l'intensità dell'esercizio. Un altro modo per aumentare l'intensità in un esercizio è quello di andare a diminuire i tempi di recupero. Quindi se voi la prima settimana fate i recuperi da due minuti la settimana dopo passate a recuperi da un minuto e mezzo la settimana dopo passate a recuperi da un minuto mantenendo serie ripetizioni e carico invariato potete ben capire che l'intensità del vostro allenamento e del vostro esercizio aumenterà. Quindi diciamo questi che vi ho appena detto carico, ripetizioni, serie e recupero sono i parametri più conosciuti per quanto riguarda gestire l'intensità del vostro allenamento anche per quanto riguarda delle progressioni nel tempo. Oggi però oltre a questa cosa che vi ho appena detto che bene o male tutti conoscete vi voglio mostrare le tecniche di intensità. Una per volta ve le vado a mostrare tutte nel dettaglio. Venite con me. Vi spiego la tecnica di intensità del drop set. Allora mettete un peso un peso che vi permette di arrivare a cedimento muscolare come in questo caso ho messo questo peso e vado a fare tutte le ripetizioni. Quando arrivo a cedimento non mi riposo abbasso il peso quindi abbasso e riparto subito senza recuperare facendo più ripetizioni possibili andando nuovamente a cedimento dopodiché abbasso il peso di nuovo riparto senza recuperare andando nuovamente a cedimento muscolare. terminato il tutto mi riposo e recupero quello che trovate scritto sulla scheda. Quindi se sulla scheda c'è scritto un minuto e mezzo fate un minuto e mezzo se sulla scheda c'è scritto un minuto fate un minuto oppure due minuti a seconda di quello che sta indicato sulla scheda ciò che conta è fare tutto di fila quello che vi ho appena mostrato e recuperate alla fine. Adesso ti spiego la tecnica di intensità la cosiddetta negativa lenta. In cosa consiste? Bisogna fare il nostro esercizio con la spinta a una velocità normale ma la discesa lenta va frenata dovete sentire il muscolo che lavora molto durante la discesa in questo modo. potete farlo anche contando dentro la vostra testa la negativa deve essere più o meno 3-4 secondi l'importante è come avete visto che sia molto lenta adesso ti spiego la positiva lenta positiva lenta è l'esatto opposto della negativa lenta quindi cosa significa? che io quando vado a spingere quando vado a fare la fase quella faticosa devo andare lentamente e la negativa la faccio a una velocità normale non lenta ma normale quindi la spinta in questo caso è lenta 3-4 secondi la spinta la discesa è normale la spinta è molto lenta la discesa è normale adesso ti spiego la tecnica di intensità cosiddetta rest pose che cosa significa? bisogna fare tutte le ripetizioni fino a quando non si arriva a cedimento dopodiché quando siamo arrivati a cedimento ci si ferma si appoggia il carico e si riposa 10-15 secondi non di più e dopo si riparte facendo le ripetizioni andando nuovamente a cedimento a quel punto ci si ferma ancora 10-15 secondi si riposa e poi si riparte andando nuovamente a cedimento a questo punto la serie è finita e fate il vostro recupero e questa qui che vi ho appena indicato era semplicemente una serie quindi adesso ve lo mostro logicamente io faccio finta perché il peso per me è leggero faccio tutte le mie ripetizioni facciamo finta che nella scheda ne stanno scritte 8 quando arriva all'ottava che sono distrutto che sono a cedimento sto morendo questa era l'ultima l'appoggio mi fermo 10 secondi 10 secondi reali facciamo finta che sono passati 10 secondi si riparte andando a cedimento quindi senza contare le ripetizioni dovete farne al massimo tutte quelle che vengono fuori quando siete arrivati all'ultima che state morendo che proprio la fate che dite dopo questa non ne ho più appoggiate riposate 10-15 secondi facciamo finta che sono passati e ripartite e fate la stessa cosa massime ripetizioni fino a quando non arrivate che state morendo nell'ultima e dite adesso non ce n'ho più finita la serie ok adesso vi spiego la super serie che cos'è la super serie è una serie composta da due esercizi fatti in modo consecutivo vi faccio l'esempio chest press inclinata perché questa è una chest press inclinata 10 ripetizioni più chest press quella normale 10 ripetizioni quindi 10 più 10 un totale di 20 ripetizioni quindi che cosa faccio parto facendo il primo esercizio in questo caso la chest press inclinata arrivando a cedimento muscolare quindi facciamo finta che adesso sono alla decima ripetizione sto morendo la chiudo metto a posto perché non ne avevo più e subito senza riposarmi cambio attrezzo e vado a fare e vado a fare la chest press quella classica come indicato e anche qui vado a fare le mie 10 ripetizioni andando a cedimento quindi arriverò all'ultima che sto morendo ma la chiudo ugualmente e poi metto a posto questo si chiama super serie due esercizi uno consecutivo all'altro senza riposo tra di loro e il riposo si fa al termine dell'ultimo esercizio il riposo sarà indicato sulla scheda magari un minuto magari un minuto e mezzo magari sono due minuti adesso ti spiego la tecnica di intensità giant set giant set cosa significa sono tre esercizi uno consecutivo all'altro senza riposo tra un esercizio e l'altro il riposo si fa al termine dell'ultimo esercizio in questo caso il primo esercizio è la chest press inclinata il secondo esercizio è una classica chest press il terzo esercizio sono i piegamenti sulle braccia per terra ok fatto tutto in maniera consecutiva e nella scheda facciamo finta qui era indicato 10 ripetizioni 10 ripetizioni e massime ripetizioni nei piegamenti sulle braccia per terra quindi vi faccio l'esempio si parte dal primo esercizio facciamo le nostre 10 ripetizioni arrivando a cedimento quindi arrivando a sfinimento che non ce la fate più a proseguire quindi dovete selezionare il carico giusto per arrivare a cedimento dopodiché si cambia esercizio senza riposare si parte subito con questo anche qui 10 ripetizioni perché nella scheda sta indicato 10 ripetizioni anche qui deve arrivare all'ultima che sto morendo e non ce la faccio più adesso sto facendo finta che questo è un carico dimostrativo e subito piegamenti sulle braccia andando anche qui a cedimento cedimento finita la serie la serie in giant set quindi la serie sarà composta in questo caso da 3 esercizi faccio il mio recupero finito il recupero parto con la successiva serie che sarà composta sempre da 3 esercizi come vi ho appena mostrato adesso ti mostro la tecnica del piramidale in che cosa consiste un esempio potrebbe essere 4 serie di cui la prima sono 12 ripetizioni poi 10 poi 8 poi 6 per esempio come ci si deve comportare in questo caso quando leggete piramidale dovete partire con un carico che vi permette in questo caso di fare 12 ripetizioni a cedimento successivamente terminata la serie riposate un minuto un minuto e mezzo due minuti quello che sta indicato sulla scheda aumentate il carico perché aumentate il carico perché dopo andate ad affrontare una serie che non ha più 12 ripetizioni ma ne ha 10 quindi due ripetizioni in meno sono più facili quindi aumentiamo un pochino il carico facciamo le nostre ripetizioni si recupera il recupero che sta scritto sulla scheda successivamente dobbiamo passare alla serie successiva in questo caso 8 ripetizioni quindi aumentiamo ancora il carico perché le ripetizioni sono diminuite ancora di 2 siamo passati da 12 a 10 da 10 a 8 quindi sono ancora due ripetizioni in meno aumentiamo ulteriormente il carico facciamo le nostre 8 ripetizioni l'ultima serie si recupera poi dopo passiamo all'ultima serie nell'ultima serie abbiamo detto che c'è scritto 6 ripetizioni e in questo caso aumentiamo ancora il carico per affrontare le nostre 6 ripetizioni adesso ve lo mostro facciamo un esempio metto questo carico qui parto e faccio le mie 12 ripetizioni facciamo finta che sono arrivato a 12 ripetizioni morendo andando a cedimento e mi fermo recupero un minuto un minuto e mezzo due minuti a seconda di quello che sta scritto nella scheda adesso che cosa faccio aumento il carico parto per affrontare la serie dopo dove le ripetizioni non sono più 12 ma sono 10 anche qui vado fino a cedimento mi fermo recupero aumento ulteriormente il carico perché adesso non farò più 10 ripetizioni ma ne faccio 8 vado a cedimento muscolare recupero e adesso vado a fare l'ultima serie da 6 ripetizioni dove aumenterò ulteriormente il carico dopo aver fatto il mio recupero riparto e faccio tutte le mie 6 ripetizioni e il nostro piramidale a questo punto è finito logicamente ragazzi è un carico dimostrativo non ho fatto tutte le ripetizioni se no il video veniva di 20 minuti però in teoria avete capito ti spiego la tecnica di intensità isomix in che cosa consiste bisogna fare un totale di 15 ripetizioni le prime 5 ripetizioni le facciamo ad una velocità normale in questo caso siamo ad una chest press ma si può applicare in tutti gli esercizi una volta arrivati alla quinta ripetizione ci si ferma in isometria in isometria significa che ci dobbiamo fermare nel punto più duro del movimento e rimaniamo in tensione continua 5 secondi senza riposarsi quindi fermi in tensione isometrica si riparte facendo ulteriormente 5 ripetizioni arrivati alla decima ripetizione in questo caso facciamo la stessa cosa ci fermiamo 5 secondi in isometria nel punto più duro dell'alzata successivamente subito si riparte facciamo le ultime 5 ripetizioni e quando siamo arrivati alla quindicesima ripetizione ci fermiamo nel punto più duro per 5 secondi ok in isometria in tutti gli esercizi di petto come in questo caso la chest press o magari le croci le spinte con i manubri o col bilanciere su panca piana o panca inclinata l'isometria quando va fatta? va fatta quando il petto è in massimo allungamento vale a dire quando la mano negli esercizi di spinta è vicina al petto e negli esercizi di apertura come le croci quando la mano è nel punto di massima apertura quindi quando il petto è in allungamento in tutti gli altri esercizi come per esempio i bicipiti i tricipiti che ne so la leg estation per farvi un esempio quindi tutti gli esercizi che non sono di pettorali la pausa in isometria non va fatta quando il muscolo è in massimo allungamento ma va fatta quando il muscolo è in massima contrazione contrazione nel caso dei bicipiti quando il braccio è contratto quando si fa i tricipiti quando il tricipite è contratto quando si fa per esempio leg estation quando il quadricipite è contratto adesso ve lo mostro il carico è dimostrativo è leggero quindi vado a fare queste cinque ripetizioni una volta arrivati alla quinta ripetizione mi fermo cinque secondi uno due tre quattro e cinque ancora cinque ripetizioni ora io non le faccio tutte ma è dimostrativo ancora cinque secondi di pausa cinque ripetizioni e quando arriviamo alla quindicesima ancora cinque secondi di pausa e l'esercizio è finito adesso vi mostro una tecnica di intensità che io chiamo tecnica otto più otto più otto ma potrebbe essere anche applicata su sei più sei più sei sette più sette più sette dieci più dieci più dieci ma io per praticità la chiamo otto più otto più otto poi a seconda delle ripetizioni indicate nella scheda voi vi adattate di conseguenza in cosa consiste? consiste nel fare otto ripetizioni corte quindi non complete consiste nel fare otto ripetizioni in questo caso corte parziali quindi le prime otto si fa metà movimento le seconde otto da metà movimento ci si ferma le facciamo in chiusura otto sempre parziali le ultime otto ripetizioni le facciamo complete allora cercate per esempio quando fate questo esercizio le prime otto ripetizioni di farle nel punto di massima contrazione vi faccio l'esempio se fate la lat machine di fare le prime otto qui perché qui siete in massima contrazione e qui siete in massimo allungamento quando fate le seconde otto e poi le fate complete quindi si parte sempre da il muscolo nelle prime otto massima contrazione poi le seconde otto massimo allungamento e poi otto complete in questo caso che è un esercizio per i pettorali solo nei muscoli pettorali si fa al contrario vale a dire che le prime otto si fanno quando il petto è in massimo allungamento le seconde otto si fanno nel punto di chiusura e poi le ultime otto sono complete ok questa variante al contrario vale solo per il petto quindi se voi fate i bicipiti le prime otto massima contrazione le seconde otto nel punto di allungamento e poi complete fate tutte le ripetizioni quindi otto sedici ventiquattro fate il vostro recupero e dopo partite con la serie successiva adesso ragazzi vi spiego la tecnica picco in isometria che cosa significa significa che ad ogni ripetizione ci dobbiamo fermare tre quattro secondi nel punto più duro dell'alzata ad ogni ripetizione quindi se nella scheda avete scritto tre serie da dieci ripetizioni in tutte e dieci le ripetizioni è necessario fare l'isometria quindi uno e ci si ferma uno due tre quattro due 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 tre 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 quattro 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 e così via fino alla decima ripetizione questa tecnica si chiama picco in isometria l'isometria in che punto va fatta? allora in tutti gli esercizi per il petto sia quelli di apertura che di spinta bisogna fare la pausa nel punto di massimo allungamento del vostro pettorale quindi negli esercizi di apertura sarà quando siamo nel punto di massima apertura mentre negli esercizi di spinta come la panca piana la panca inclinata con i manubri con il bilanciere la chest press bisogna farla quando abbiamo la mano vicino al petto quindi il nostro pettorale è in massimo allungamento in tutti gli altri esercizi della palestra quindi per altri gruppi muscolari bisogna fare questa pausa in isometria nel punto di massima contrazione come per esempio per i bicipiti per i dorsali per i dorsali negli esercizi di tirata si farà nel punto di massima contrazione a una lat machine si farà nel punto di massima contrazione e così via lo stesso vale per le gambe per le spalle e tutti gli altri esercizi quando nelle mie schede trovate scritto isometria e non picco in isometria significa che dovete fare una sola ripetizione quindi non tante ripetizioni ma una sola ripetizione e in genere io vi scrivo anche il tempo che deve durare questa isometria quindi se trovate scritto isometria chest press 30 secondi significa che voi dovete fare questa cosa qui e vi fermate 30 secondi in questa posizione e dentro di voi contate 1 2 3 fino a quando non arrivate a 30 quando arrivate a 25 30 secondi come indicato magari nella scheda poi magari nella scheda vi scrivo 10 secondi 15 quando arrivate comunque che siete quasi alla fine dovete percepire più o meno il cedimento quindi ragazzi dovete mettere un carico opportuno che vi permetta di arrivare al termine del tempo in isometria distrutti ok non dovete fare l'isometria se io vi scrivo 30 secondi che ci potevate stare pure 60 o 40 dovete farla mettendo un carico e quando arrivate più o meno a 25 30 siete distrutti come va fatta l'isometria negli esercizi per i pettorali va fatta nel punto di massimo allungamento del vostro pettorale in tutti gli altri esercizi al di fuori dei pettorali in tutti gli altri gruppi muscolari l'isometria si fa sempre nel punto di massima contrazione ti spiego la tecnica di intensità cosiddetta serie composte che cosa significa è molto simile al drop set ma non è un vero e proprio drop set che cosa dovete fare questo esercizio si fa senza cambiare attrezzo rimanete sullo stesso come in questo caso alla chest press serie composte 10 più 10 significa che voi mettete un carico che vi permette di arrivare a cedimento muscolare alla decima ripetizione dopodiché abbassate il peso e fate ancora 10 ripetizioni andando a cedimento quindi serie composte metti caso 3 serie 10 più 10 significa che tutte e tre le sere vanno fatte 10 ripetizioni a cedimento scalò il peso 10 ripetizioni a cedimento mentre il drop set è una cosa più lunga perché si va a scalare il peso più volte qui si va a scalare una volta sola vi faccio l'esempio parto questo è un carico dimostrativo vado a fare 10 ripetizioni arrivo alla decima perché naturalmente ho selezionato un carico corretto quindi arrivo alla decima che sono distrutto non riesco più a proseguire provo ugualmente a chiuderla una volta chiusa appoggio il peso abbasso il carico subito senza riposarmi riparto riparto e vado a fare ancora le mie 10 ripetizioni andando nuovamente a cedimento terminato tutto ciò recupero e dopo parto con la serie successiva adesso ti spiego la tecnica di intensità che si chiama serie diminuenti in che cosa consiste? serie diminuenti una serie o per 50 ripetizioni oppure per 100 ripetizioni quindi in genere si fa su un numero alto di ripetizioni ipotizziamo che in questa scheda ho scritto una serie per 100 ripetizioni voi dovete selezionare un carico che pensate che con quel carico lì potete raggiungere il vostro scedimento intorno alla ventesima ripetizione ok? quindi selezionate per esempio questo carico e dice ok con questo carico alla ventesima ripetizione sono morto e voi partite a fare le vostre 100 ripetizioni iniziate le contate e più o meno arrivate intorno alla ventesima ripetizione se avete selezionato il carico giusto che siate morti quindi arrivate alla ventesima ripetizione che state morendo quindi avete raggiunto il cedimento e mettete a posto e vi riposate quanto? il minimo indispensabile potrebbe essere 5 secondi 10 secondi 15 secondi massimo e poi ripartite subito quindi ripartite a contare da 20 perché voi siete arrivati a 20 e quindi fate 21 22 e andate fino a cedimento ipotizziamo che adesso arrivate a cedimento alla trentesima alla trentesima siete nuovamente a cedimento appoggiate e riposate ancora 10 15 secondi 20 se proprio ne sentite la necessità dovete ripristinare un minimo di energia per ripartire e ripartite e fate la stessa cosa andate nuovamente a cedimento quando siete morti vi fermate riposate un attimino e ripartite fino a quando non avete totalizzato tutte e cento le ripetizioni come indicato nella scheda in questo esempio erano 100 ripetizioni ma magari in un altro programma potrebbero essere 20 le ripetizioni o 50 questa è una tecnica che per esempio si inserisce anche nelle trazioni alla sbarra per farvi un esempio una persona riesce a fare 5-6 ripetizioni alla sbarra si mette questa tecnica totalizzando 20 ripetizioni nel minor tempo possibile ok in questo caso l'abbiamo fatta la chest press il carico iniziale su 100 ripetizioni deve essere pari al carico che utilizzate per andare a cedimento su 20 ripetizioni per avere un termine di paragone adesso ti mostro la tecnica del destra-sinistra insieme in genere nelle mie schede ti vado a scrivere tre serie 8 più 8 più 8 destra-sinistra insieme in questo caso era 8 più 8 più 8 ma potrebbe essere 10 più 10 più 10 o 7 più 7 più 7 l'importante è che voi capite che cosa significa tecnica destra-sinistra insieme quindi ipotizzate che nella scheda sta scritto 8 più 8 più 8 che cosa significa questo esercizio sono le alzate laterali significa che voi dovete fare 8 ripetizioni con il braccio destro vi fermate all'ottava ripetizione 8 ripetizioni con il braccio sinistro vi fermate all'ottava ripetizione e poi 8 ripetizioni insieme questa è una tecnica che si può applicare a tanti esercizi ora vi ho mostrato le alzate laterali ma si potrebbe fare per esempio sulle alzate frontali ok si potrebbe fare anche sui bicipiti potrebbe fare in tanti esercizi l'importante è quando lavorate il braccio destro il braccio sinistro non è che riposa come in questo caso lungo il fianco ma il braccio sinistro sta su e sta fermo in isometria perché sta faticando stando fermo lì successivamente quando si muove il braccio sinistro il braccio destro come vedete sta faticando e dopo lavorano insieme quindi mi raccomando destra sinistra insieme ma quando lavora al destro il sinistro sta in isometria e viceversa se vuoi tornare in forma e avere un corpo più tonico agile e forte se vuoi mangiare ciò che desideri senza fare diete da fame e vedere già fin da subito risultati eccezionali grazie ai nostri allenamenti personalizzati allora clicca nel link in descrizione compila il questionario e scopri come possiamo aiutarti ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto provate queste tecniche di intensità all'interno dei vostri allenamenti logicamente però vanno inserite con una certa logica nei vostri allenamenti non potete inserirle così a caso e fare un minestrone quindi provatele se volete lasciate anche dei commenti qua sotto magari vi rispondo se avete bisogno di alcuni consigli oppure contattatemi direttamente in privato su instagram e magari se avete bisogno vi do delle dritte io vi ringrazio e al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti